Buongiorno a tutti, sono il professore Francesco Samani, professore abilitato, vincitore del concorso a cattedra, vincitore del concorso TFA a 042 meccanica e tecnologia meccanica, sono un ingegnere meccanico, vincitore del concorso TFA sostegno terzo ciclo, mi sono specializzato nel sostegno, vincitore del concorso Tor Vergata e dottorato, sono diventato di ruolo e sto facendo il dottorato di ricerca presso l'università di Tor Vergata in meccanica e robotica. Allora, veniamo a noi, mi avete scritto in tanti e mi avete per lo più mandato, cioè io sto notando che in questa fase molti di voi, alcuni di voi hanno cominciato a studiare ma molti di voi hanno molti quesiti, molti quesiti, sono, giustamente si è parlato tanto di questi concorsi in scuola, ci sono state, sono state fatte delle promesse negli anni passati, sono state procrastinate queste date, poi si è dimesso il ministro dell'istruzione perché non è riuscito ad ottenere quello che desiderava, ne è subentrato un altro, è cominciato il Covid, recentemente c'è stata alle 23 di notte una riunione nella Camera dei Deputati per decidere cosa fare di questi concorsi e sembrerebbe che il concorso straordinario per coloro che hanno almeno tre anni di servizio come precari sulla materia si farà ad ottobre, ci sarà poi un concorso abilitante e poi ci sarà un concorso ordinario, la notizia buona è che il numero di posti per classi di concorso sono aumentati, quindi vi consiglio di andare a vedere nella regione dove farete, quindi 1, nella regione, questa è una domanda che mi viene fatta, allora vi dico, nella regione dove farete il concorso, farete il concorso, verificate il numero di posti relativi alla vostra classe di concorso, ok? Perché ci sono alcune materie, ad esempio una che va abbastanza bene in matematica e scienze, che in Lombardia e anche nel Lazio hanno molte, per molte intendo 400-500 posti, quindi matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado, altre materie, come filosofia, storia e filosofia non vanno altrettanto bene, cioè ci sono decisamente meno richieste. Poi leggiamo le domande, allora salve, qualcuno mi può dire se a giugno devo rinnovare le gradatorie di terza fascia? Allora anche qui si è parlato tanto, in un primo momento il ministro dell'istruzione aveva detto che quest'anno l'aggiornamento delle gradatorie sarebbe saltato, adesso sembrerebbe che l'aggiornamento del gradatorio era fatto a settembre e sembrerebbe che ci sarà una doppia possibilità, ossia l'aggiornamento delle gradatorie provinciali, che era la vera novità, e poi l'aggiornamento delle gradatorie delle 20 scuole. Ovviamente poi su questo tema ci ritornerò perché una risposta definitiva al momento non ve la so dare, perché su queste cose se ne sta parlando, ci sono tanti emendamenti che verranno discussi, in particolare c'è un emendamento specifico solo per gli specializzati di sostegno, specializzati come tramite TFA, in particolare secondo me è rivolto soprattutto a quelli che hanno fatto il TFA quarto ciclo. Si parla di un concorso ad hoc specifico che verrebbe emanato ogni due anni, con un concorso straordinario TFA sostegno, dove ci sarebbe una prova orale, però sarebbe comunque un concorso selettivo, non un concorso come c'è stato per tutti quelli che non hanno vinto il concorso 200 2016, successivamente l'hanno chiamato concorso, però di fatto era un concorso non selettivo dove bisognava sedersi, si prendeva un voto e poi si veniva immessi nelle gradatorie a scorrimento per diventare di ruolo. Quindi c'è la possibilità di un concorso anche qui. Poi leggiamo le altre domande che mi avete fatto. Io sono abilitato nella materia senza aver fatto il TFA perché andando sul sito del CISL Scuola, no, 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 no. Allora, l'abilitazione è una cosa seria, l'abilitazione in passato si prendeva attraverso le SIS, si faceva un concorso, se si vinceva il concorso si aveva diritto di entrare in queste scuole SIS di durata biennale, al termine del quale si prendeva un'abilitazione, la quale però non ti faceva diventare di ruolo, ma si rimaneva essenzialmente precari. Però si diventava abilitati, dopodiché questa scuola è diventata di abilitante, si è trasformata in un TFA tirocinio formativo attivo e in un pass, ossia quelli che avevano questo prevedeva un concorso per entrare, questo no, questo era esclusivo per quelli che avevano i famosi tre anni di servizio. Diciamo, sono stati dei veri e propri, cioè una volta entrati, TFA Materie Pass e anche SIS davano l'abilitazione, nel TFA aveva la durata di un anno accademico, corrispondeva quindi a 60 CFU, crediti formativi universitari, mi sembra un 36-40 crediti su materia, 20 o 24 in pedagogia, forse 24 in pedagogia, si doveva fare un terucinio di 180 ore nelle scuole, si doveva fare una tesi finale, si doveva presentare l'alborato eccetera eccetera e poi si faceva la discussione della tesi. In effetti il vostro concorso è un concorso abilitante, ossia dopo tantissimi anni la novità positiva per voi, non so quanto è positiva per il livello di preparazione, però chi vincerà il concorso senza fare questi precedenti concorsi per abilitarsi, chi vincerà il concorso sarà abilitato. Quindi si farà a seconda del tipo di concorso una prova scritta, una prova orale, verrà stilato una graduatoria di merito e chi vincerà diventerà subito di ruolo e nell'esempio del concorso ordinario in realtà ci saranno tanti aspiranti insegnanti, quindi tanti laureati con 24 CFU che possono non aver fatto nemmeno un'ora di servizio o comunque nemmeno un'ora di tutor, persone che non hanno mai insegnato si ritroveranno abilitate e potranno insegnare e diventare di ruolo. Questo secondo me, questo aspetto è un aspetto non bello perché a mio avviso fare il tirocinio, poter fare dei tirocini, poter avere un'esperienza nella scuola, con la classe, con la gestione della classe secondo me era molto importante, quindi mi rivolgo soprattutto non ai precari o quelli che hanno già fatto tre anni di servizio, per raggiungere i tre anni di servizio essenzialmente bisogna fare 180 giorni, oppure essere chiamati a fare una semplezza entro la fine di gennaio, quindi in realtà questi 180 giorni possono anche essere inferiori, possono anche essere meno, quindi in realtà, e poi una cosa, diciamole tutte le cose perché ovviamente ognuno, io ho visto, tra la tanta confusione ognuno si lamenta, allora come si raggiungevano questi tre anni di servizio? Allora, le scuole, per chi si trova in terza fascia, chiamano e spesso chiamano anche o su materia, ma tante volte sul sostegno. Allora che cosa accade? Che si può essere chiamati per un full time, che nella scuola secondaria corrisponde a 18 ore, però si può essere anche chiamati per 6 ore settimanali, per 12 ore settimanali, ovviamente lo stipendio cambierà. Allora, ebbene, anche se si viene chiamati per 6 ore e si esercitano 3 annualità, ma 3 annualità non significa 365 giorni, l'ho detto poc'anzi il significato delle 3 annualità, dopo queste 3 annualità, insomma, si ha diritto a fare questo concorso. Queste persone sono privilegiate perché possono fare anche il concorso ordinario, secondo me sono giustamente privilegiate, perché queste persone, insomma, non dico che sono state sfruttate, però hanno comunque lavorato nella scuola, hanno maturato servizio, hanno fatto esperienza, a mio avviso è giusto così. Per quelli che hanno il titolo di dottorato di ricerca. Allora, qui si apre un discorso, secondo me, ecco, questa classe di persone non è stata abbastanza valorizzata. Perché? Perché in Europa il dottorato di ricerca, che ricordo che è il massimo titolo, massimo titolo conseguibile, titolo conseguibile in Italia, ma anche all'estero. Infatti i dottori non sono i medici, i dottori di ricerca sono quelli che vincono il concorso per entrare in una scuola di dottorato dall'università, fanno ricerca, fanno pubblicazioni internazionali, fanno seminari, vanno all'estero, creano prototipi, creano, insomma, sono quelle persone che poi alla fine dei tre anni di ricerca spesso e volentieri cominciano a fare il postdoc, cioè il post-dottorato, diciamo che gli studenti di dottorato di ricerca vengono anche chiamati PhD student, ok? E diciamo che ovviamente chi ha una laurea triennale più la magistrale o la vecchia laurea di 4 anni o di 5 anni, certo ha fatto tanto, ma chi ha vinto un concorso ed è diventato dottore di ricerca, che ne so, in biologia, piuttosto che in matematica, piuttosto che in filosofia, a mio avviso avrebbe dovuto avere maggiori chance in questo concorso. È vero che nei titoli valutabili fino a 20 punti, ok? Ci sono 5 punti per chi ha conseguito il dottorato di ricerca, però non c'è, per esempio, la possibilità di partecipare al concorso straordinario e siccome il dottorato di ricerca è stato considerato titolo paritario al titolo del TFA o del SIS negli altri stati, è stato un pochettino, non lo so, poi me lo direte voi nei commenti, non è stato tanto caruccia questa cosa, perché vi ricordo che dopo il concorso del 2016 c'è stato un altro concorso l'anno successivo, quindi nel 2017, per tutti quelli che avevano il dottorato di ricerca. Queste persone che hanno fatto il concorso e lo hanno vinto poi sono diventate di ruolo e quindi era in un certo periodo questo dottorato di ricerca è stato equiparato all'abilitazione. Vi ricordo che l'abilitazione, allora per chi ha fatto il pass ci sono meno crediti, per chi ha fatto il TFA ce ne sono di più, per chi ha fatto la SIS ce ne erano ancora di più. Diciamo che il dottorato di ricerca sono tre anni di università e c'è un valore di circa 180 CFU, però ovviamente nel TFA o nel pass o nella SIS, che comunque erano corsi universitari specifici, si lavorava in maniera specifica per diventare insegnanti, nel dottorato di ricerca si lavora in maniera specifica per diventare ricercatori ed eventualmente, in Italia è molto difficile, però ed eventualmente professori. Quindi ovviamente il format di un ricercatore e le esperienze che fa un ricercatore sono di altissimo livello, però non sono esperienze relative alla didattica. Sì, conosco persone che fanno il postdoc e che hanno lezioni con gli studenti universitari, però posso dire che la lezione all'università è un qualcosa di estremamente diverso che una lezione che si ha con gli studenti, alle scuole medie o alle superiori, c'è un rapporto estremamente diverso, cioè una classe di 20 persone alle scuole medie o alle scuole superiori è diversa da una classe di 50 o 100 persone all'università. Ovviamente poi, ripeto, la diversità è tanto più evidente quanto più c'è una differenza di età. Ovviamente se si parla di una prima media, confrontare una scuola di un anno in prima media rispetto al quarto o al quinto anno di un percorso di laurea, ovviamente chi diventa abile nelle lezioni perché ovviamente chi fa il dottorato di ricerca può fare anche attività didattica all'università. Poi dipende, ovviamente, ogni percorso di ricerca è diverso, c'è chi non la fa questa attività didattica, c'è chi fa molte pubblicazioni scientifiche, c'è chi fa molti esperimenti, ovviamente il dottorato di ricerca è un mondo molto grande e molto complesso che secondo me è un mondo meraviglioso perché qui dentro ci sono le università e qui dentro c'è la vera ricerca, mentre nella scuola si fa attività di ricerca ma essenzialmente si fa attività di trasferimento culturale, trasferimento delle conoscenze attraverso diverse e sinergiche metodologie didattiche, però la scuola è una cosa, l'università a mio avviso è un'altra cosa, il dottorato e il postdoc sono altre cose ancora. Vediamo altre domande, allora come sono suddivise le scuole? Benissimo, allora facciamo così, ve le suddivido per età, allora c'è la prima infanzia, quindi che va dalla nascita di 3 anni, 0, 3 anni, poi c'è una seconda infanzia, in realtà io vi sto facendo una distinzione per, lo scrivo qua in rosso per, chiamiamola età evolutiva, una seconda infanzia che va dai 3 ai 6 anni, e qui scuola maderna, poi c'è la fase evolutiva della fanciullezza, dai 6 agli 11 anni, scuola elementare, scuola in realtà viene chiamata scuola primaria, Ah, un appunto ve lo devo fare, noi recentemente abbiamo avuto due ministri, Di Maio e Salvini, entrambi non laureati, questo è importante dirlo perché per carità saranno bravissime persone, soprattutto Salvini che sta da tantissimi anni in politica, però è ovvio che, a mio avviso, per decidere, per prendere delle decisioni importanti relative anche all'istruzione, relative al nostro paese, relative alla ricerca, relative allo sviluppo, per finanziare i progetti, eccetera, secondo me bisogna aver maturato determinate competenze. Ovviamente le competenze che matura un politico che per 20 anni sta in politica sono delle competenze essenzialmente per cercare di prendere voti, non sono delle competenze, a mio avviso, specifiche per cercare realmente di migliorare il sistema scuola italiano, ok? Questa è una attivicità italiana, del tutto italiana, a mio avviso è giusto dirlo. Poi c'è la fase difficile per le mamme, ma la fase più difficile è quella successiva, della preadolescenza, quindi scuola media, 11-14 anni, e viene chiamata scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria, primo grado. e poi la fase dell'adolescenza che corrisponde come età, ovviamente se non si viene bocciati, dai 14, 18, 19 anni, alla scuola secondaria di secondo grado, sono le scuole superiori. Secondare, secondo grado, ovviamente poi nella scuola secondaria ci sono i licei, ci sono gli istituti, ci sono i professionali, eccetera, eccetera. Altre domande, rinviato il concorso, salta la prova a crocette? Sì. Allora, dalla prova a crocette, quindi domanda crocette, adesso sembrerebbe che a ottobre, cioè si avrà più tempo per prepararsi e la prova a crocette salta, quindi scriviamo così, salta la prova a crocette. Vorrei una delucidazione in merito alla possibilità di partecipare a più prove concorsuali, l'articolo 4, eccetera, eccetera. Ok, allora, in linea di massima, considerate che nel concorso si può partecipare ad una sola classe di concorso per ogni grado, quindi eventualmente una classe di concorso qui e una classe di concorso qui. Mi devo informare bene, questo dovrebbe valere per il concorso straordinario e per il concorso ordinario. Per il concorso abilitante, devo dire la verità, forse c'è la possibilità solo di partecipare a una classe di concorso. Ah, una nota che volevo dirvi, siccome vi ho parlato prima del TFA sostegno, anche qui il concorso sarà abilitante perché il TFA, diciamo, nel quarto ciclo ha avuto un grande cambiamento. Perché? Perché tutti i TFA, diciamo, primo, secondo, terzo ciclo su materia davano l'abilitazione. Nel sostegno si ha, allora, materia, alla materia corrispondeva l'abilitazione. Poi, chi aveva l'abilitazione poteva partecipare al TFA sostegno, quindi sostegno, e si prendeva un ulteriore titolo che era la specializzazione. Quindi, specializzazione, ok. Quindi, I, scriviamola tutta, va? Specializzazione. Quindi, quei docenti, quegli insegnanti, quegli studenti, insomma, che sono entrati nel TFA quarto ciclo, in realtà hanno tolto la necessità di essere abilitati e quindi hanno fatto, è vero che loro hanno già fatto un concorso, eh, il TFA quarto ciclo hanno fatto un concorso e quindi si parla per loro di un qualcosa, di un altro eventuale concorso e secondo me sarebbe anche giusto. Però voglio fare questa differenzazione perché anche per loro il concorso deve essere abilitante. Perché? Perché in realtà, a meno che non si sia fatto un TFA primo, secondo, terzo ciclo del sostegno, dal TFA quarto, adesso inizierà il TFA cinque sostegno, in realtà questo titolo è solo una specializzazione. lo hanno aperto ai non abilitati, però chi consegue la specializzazione non è abilitato all'insegnamento. Quindi, per diventare di ruolo bisogna essere abilitati all'insegnamento e quindi anche per loro il concorso è abilitante. Quali testi state studiando per quali testi suggerisce di comprare per il concorso straordinario e per il concorso ordinario? Bene. Allora, potete... Allora, essenzialmente ci sono due grandi case editrice, la De Simone e la Edices, che aggiornano continuamente il libro. Quindi, edizione Simone, mi sembra dal 1968, scriviamo edizione Simone ed edizione Edices. Secondo me sono... Ovviamente ce ne sono altre, non sto dicendo... Anche le altre edizioni possono essere eccezionali, poi in realtà i vari sindacati fanno anche... Cioè, ci si può scrivere al sindacato per fare dei corsi. Io personalmente ho curato la preparazione di più docenti. Devo dire che un corso individuale, come l'ho fatto io in passato, cioè, a me tutti i docenti, io tutti i docenti che ho seguito hanno vinto il concorso. forse una piccola percentuale in più, cioè, magari rispetto relativamente alla percentuale di promosti al concorso e alla percentuale di bocciati, forse chi ha seguito i corsi, le sindacate, può essere che ha avuto una piccola percentuale in più di promozioni, in linea di massima, vi posso dire che questa promozione non... Cioè, essenzialmente chi studia bene, chi si informa, sono... Io vi consiglio tanto anche i gruppi... Allora, per rimanere aggiornati, è vero, si fa tanta confusione, cioè... Allora, prendetele con le pinze, seguite pure i gruppi Facebook. Io, tra l'altro, Facebook mi è venuto un lapsus freudiano, non so come si scrive, forse Facebook, come libro, vabbè, faccia libro. Eppure sui gruppi Facebook, anche se lì, essenzialmente, si trovano tante informazioni anche disordinate, anche... Allora, lo studio, ritorniamo allo studio, lo studio deve sicuramente essere volto alle avvertenze generali, quindi deve essere volto, a mio avviso, a una parte della pedagologia, della psicologia dello sviluppo, che in soldoni significa teorie psicopedagogiche sull'apprendimento, i fondamenti della psicologia, della pedagogia, psicologia sociale, scolastica, l'adolescenza, la teoria, i modelli interpretativi, piuttosto che... Un'altra parte, a mio avviso, molto importante, è la didattica, con le varie metodologie didattiche, che cos'è un'unità di apprendimento, la relazione educativa, il fatto che adesso lo studente è al centro dell'azione didattica, quali sono i modelli didattici, gli stili di apprendimento, conoscere qualche pedagogista, conoscere piacere, conoscere gli strumenti didattici tradizionali, quelli digitali, le TIC, quelli innovativi, eccetera, eccetera, scusate, sono ultra chiamato in questa giornata, e è importante ovviamente conoscere anche la legislazione scolastica e la normativa sulla didattica, quindi dovete conoscere le varie leggi, essenzialmente gli ordinamenti didattici, l'autonomia scolastica, le indicazioni nazionali, almeno per la vostra classe di concorso, la griglia di valutazione degli studenti, le prove, come vengono fatte le prove scritte, le prove orali, le prove, diciamo, di ingresso, i testi di ingresso, le prove sommative, eccetera, eccetera. È importantissima la parte ovviamente anche relativa all'inclusione scolastica, questa ve la scrivo, a mio avviso dovete conoscere bene tutti chi sono gli studenti BES, chi sono gli studenti DSA, che cos'è l'inclusione degli alunni disabili, che io vi consiglio anche di conoscere il DDAI o l'ADHD, ossia il disturbo a deficit dell'attenzione o iperattività, le esigenze che possono avere gli alunni stranieri, che cosa si intende per la scuola multiculturale, chi sono i ragazzi difficili e il disagio socio-sanitario. E ovviamente ora come non mai anche qualcosa sulla didattica a distanza. A mio avviso non ne parla nessuno, ma la didattica a distanza che ha fatto tanto discutere di fatto è la didattica che è stata utilizzata, che verrà utilizzata non si sa ancora per quanto e insomma almeno le università forse l'hanno attivata meglio. Le scuole ovviamente nelle scuole essenzialmente si è usato Meet della Google sono stati attivati tanti account e diciamo che con più o meno difficoltà i docenti e gli insegnanti hanno fatto molto. Io infatti voglio ringraziare tutti gli insegnanti, tutti gli studenti che ce l'hanno messa tutto in questo periodo difficile sono contento che ci sono tanti aspiranti nuovi insegnanti perché da tanti anni si parla di supplentite ossia anche quest'anno saranno previsti 200.000 precari e diciamo questi sono i consigli generali che oggi mi sento di darvi ho fatto altri video sui consigli generali questi sono dei video introduttivi sappiate che ovviamente poi metterò nuovo materiale fatemi domande nei commenti e vi risponderò mettete un like se vi è piaciuto il pollice in su se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale attivate la campanellina per essere aggiornati sui nuovi video che inserirò e condividete questa pagina facebook questa pagina di youtube io sono in diretta scusate quindi tutte le cose diciamo errate o le dimenticanze che ho fatto eccetera eccetera o gli errori che ho fatto non verranno cancellati sono in diretta quindi io vi chiedo scusa per questo ma non è facile insomma in diretta riuscire a dire insomma tutto alla perfezione vi auguro una buona giornata mettetecela tutta siate motivati e insomma io credo che insomma tutte le persone che seguiranno questi consigli e che daranno il massimo per la preparazione non avranno grosse difficoltà a diventare insegnanti di ruolo buona giornata